Sabato, cielo sereno sulla Lombardia, possibili raffiche di vento fino a 30 km all'ora, temperature minime comprese tra meno 1 e 2 e temperature massime comprese tra 11 e 12 gradi. Domenica, giornata serena, possibili raffiche di vento fino a 19 km all'ora, temperature minime comprese tra meno 1 e 1 e massime comprese tra 9 e 10 gradi. Grazie per la visione!